Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, scusate un po' la voce ma siamo tornati ieri dal Games Week e come potete capire in questo video dal titolo vi farò vedere tutto quello che abbiamo comprato dal Games Week tra cui alcuni giochi e molti molti gadget diciamo, tra action figure e altro e beh che dire ragazzi, poi uscirà anche il video di come era la fiera, velocemente ve lo farò vedere la pienezza del sabato diciamo e beh questo è tutto, iniziamo già subito a vedere tutte le cose che abbiamo preso, a tra poco ok ragazzi, iniziamo subito con tre action figure di Geass of War che vabbè sono una di Geass of War, due altre due di Geass of War, tre però fa niente tra cui l'Elite Teron come potete vedere adesso poi c'è Beird vestito da Elite Teron no Beird scusate, Dominic, Dom, amico di Marcus, migliore amico e il Cogd, il Soldier che potrebbe essere anche Kraton, cambina perché alla fine sono uguali naturalmente le cose e questi sono le prime cose passiamo alla prossima, i miei oggetti ok ragazzi, passiamo poi alla zona diciamo peluche in cui potete vedere un fantasmino di Pac-Man i due obesi Finn e Jake poi il grande Yoda, maestro Yoda qua con sto sguardo sexy poi c'è il Calamaro di Super Mario e questo sempre di Super Mario che non mi ricordo chi o cosa sia però sempre il personagino di Mario dato che ne stiamo facendo collezione mi valeva la pena prenderlo almeno si sta diminuendo sempre le mancanze della collezione diciamo ok ragazzi, passiamo alle prossime cose ok ragazzi, siamo qui adesso con alcuni altri gadget tra cui come potete vedere una torretta di porta che fa luci e suoni anche se penso non si sia sentito più di tanto perché è bassissima poi due orologi dedicati a Pac-Man che dicevano che erano esclusive mondiali al Games Week ma non so quanto ci credo tra cui il fantasma rosso e Pac-Man che bisogna per forza prendere lo Pac-Man e poi abbiamo un personaggio di Fallout che è la Mystery Box come potete vedere la scatolina dietro oltretutto vedo che è sempre fatto dalla Funco in cui ci sono personaggini comunque che trovi dentro la scatola tutti casuali sempre riguardanti i Fallout qua dietro si possono vedere più o meno tutti i dodici personaggi che ci sono ecco qua passiamo poi ad altro ok ragazzi passiamo alla parte delle maschere come potete vedere tra cui le due maschere di Payday le avrei fatte vedere tutte e quattro perché le avevano prese tutte e quattro perché un nostro amico ne aveva preso altre due e quindi aveva fatto la collezione diciamo completa però è andato via il nostro amico però fa nulla ci sarà occasione di farvele vedere e mostrarvele anche perché averle tutte e quattro non sarebbe male quindi siamo già pronti per fare una rapina in caso ce ne fosse bisogno e come potete già vedere l'ultima altra maschera è la maschera di Fallout in cui un negoziante è stato gentile mi ha detto si dai te la regalo perché le avevo chiesto se era in vendita mi ha detto di no però mi ha visto e ha detto si dai te la regalo e ce l'ha regalata adesso dai guardiamo qualcos'altro ok ragazzi poi qua siamo qui con la parte dei videogiochi acquistati con gli sconti dell'uni euro come potete vedere tra cui abbiamo il controllo del ventesimo anniversario della Playstation 4 che era ben scontato il primo giorno infatti sono andati da subito a ruba poi come potete vedere vediamo Mad Max Destiny e Assassin's Creed Syndicate poi potete vedere Disney Infinity 2.0 e Disney Infinity 3.0 e poi in aggiunta dopo Yitariro Live che era appena uscito ed era ben scontato gli sono di 30 o 40 euro rispetto a quello che era appena uscito nei negozi quindi infatti è andato a ruba per tutte le console tutti i giorni ne avevano bizzeffe e tutta la gente andava in giro con questo poi vabbè per non parlare delle offerte sulle console però non essenzialmente non interessava ma c'era gente che ne comprava a go go diciamo ok ragazzi passiamo adesso ad altro ok ragazzi continuiamo poi come potete vedere da un cappellino cappellino tra virgolette cappellone di super mario bello morbido oltretutto poi passiamo alla non vita al power up diciamo ecco il fungo comunque rosso di super mario sempre peluche formato gigante e poi infine una bossina comunque questo è il tipo bossine che un ragazzo comunque dello stand della plema ha regalato passandoli vicino mi ha fatto tottini e perché non accettare diciamo fa sempre comodo e poi vabbè infine anche queste non so se si vede bene ma comunque è una spilletta di gear diciamo perché tipo di un clano una roba del genere che c'era lì al games week cog anonimus si chiamano tipo se non sbaglio e vabbè fa nulla dai passiamo adesso alle magliette al vestiario diciamo ok ragazzi passiamo qui con le magliette e il vestiario diciamo alla fine come potete vedere questa è la prima maglietta la maglietta del ninja claptrap interplanetary non mi ricordo bene il nome completo perché c'è scritto comunque sulla maglietta che è di borderlands del pre-sequel in cui potete usare il personaggio come claptrap e questa è la maglietta che mi ha preso per la mia ragazza che adesso sta facendo il video naturalmente la cameraman o la cameraman o la camerwoman diciamo e questa era la prima passiamo adesso alla prossima passiamo subito a un'altra cosa della mia ragazza che andava matta che è la berrettina nel cappellino di Zelda come potete vedere fedele diciamo l'originale toccerei fanatica di Zelda almeno se l'è presa si è tolta uno sfizio sicuramente ok andiamo con le altre ok qui siamo sempre in tema fallout come potete vedere questa è la maglietta che ho preso per me che è quella di fallout 4 cioè fallout in generale comunque perché c'è sempre il volt boy che fa vedere il suo bel pollice in su perché dovete ricordare di mettere mi piace a questo video mi raccomando è molto bella tra cui con questa maglietta e con quella che avete visto prima del claptrap se ne acquistavi due loro poi ti regalavano questa maglietta molto molto bella di Skyrim te la regalavano che questa ho preso a misura mia perché comunque piace molto Skyrim abbiamo detto che prende due magliette una per me una per te poi prendevano la maglietta di Skyrim e comunque mi ha dato subito L e comunque penso le avevano finite quasi subito perché le regalavano ogni due e tutti ne approfittavano poi come potete vedere c'è scritto dietro Skyrim sempre del Death Cross spero si veda un po' bene oltretutto su questa manica c'è tutte le scritte dei draghi diciamo e tutto non so quanto si veda però comunque classiche scritte che trovate in Skyrim e infine per finire abbiamo un'altra maglietta che abbiamo che ci hanno regalato a tema di Halo 5 Guardians e per aver in regalo questa maglietta abbiamo faticato sette camicie io e la mia ragazza e un nostro amico perché andando allo stand Microsoft all'esclusiva diciamo come potete vedere poi l'abbè c'è la scritta di Halo 5 comunque sto dicendo andando allo stand Microsoft per ti facevano vedere un video in cui ti spiegavano la tua missione tra virgolette che era farti un selfie con le scritte per terra di Halo 5 che era Antetruth o Antetruth o come cavolo lo volete chiamare farvi un selfie postarlo su Facebook o un social in generale e poi dopo andare in giro a cercare un tizio con una bandiera e fargli vedere la foto noi abbiamo messo due ore per trovare il tizio con la bandiera perché ovviamente quando li abbiamo cercati noi non ci davano e vabbè fa nulla infine ti davano un talloncino ritornavi allo stand e ti regavano la maglietta pensavo erano tutte uguali le magliette invece ho visto che ne hanno cambiate dopo un po' perché naturalmente le finivano perché le prime forse erano quelle un po' più caratteristiche che erano con cerca la verità e tutto ed erano il team rosso e il team blu perché ufficialmente era quello però molto bella anche questa passiamo infine all'ultima cosa che era più grande ok ragazzi siamo all'ultima parte di questo unboxing del games week chiamiamolo come potete vedere sempre a tema di halo come si vede bene ed è la statuona di 18 pollici penso siano questi di master chief che a vederla comunque col prezzo non era male diciamo è proprio una bella statua proprio bella i miei dettagli poi comunque ci sono le immagini segnalato in cui poi cambiare la posizione mettere la pistola tenere il fucile d'assalto metterli tutte tutte le pose che vuoi comunque non è una statua fissa e a vederla sembrava molto bella e quando lo aprirò spero di averne conferma sicuramente perché è proprio una bella 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 statuona diciamo poi di halo c'è stata opportunità si è presa subito diciamo ad occhi chiusi perché comunque anche quest'anno non è che ce n'erano tanti giochi e robe così che interessava quello magari maggiormente quindi abbiamo preso un po' di gadget alla fine abbiamo compensato con quello che c'è solo una volta all'anno quindi si approfitta diciamo anche perché molte cose non le trovi sicuramente ok ragazzi io direi che con questa ultima cosa leggermente piccola di halo diciamo il video può terminare io vi ricordo come al solito lasciare un bel mi piace come diceva la maglietta di fallout mi raccomando un mi piace bisogna metterlo sicuramente per tutto questo ben di dio diciamo del games week perché era il games week c'era il macello di gente come poi vedete nel prossimo video che farò vedere sperando di farlo uscire e vi ricordo sempre di lasciare un bel commento con qualche consiglio e tutto che volete iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto condividere il video ciao a tutti